Verrà ripristinata a partire da mercoledì 1 giugno la regolare circolazione in corrispondenza del viadotto Montechiupio della Statale Appia, itinerario Ofantina. Per la rimozione del cantiere aperto circa due anni fa si renderà necessaria un'interdizione totale al transito in orario notturno. Le attività proseguiranno al di fuori della sede stradale senza interferire con la circolazione. Sono infatti in fase di ultimazione le lavorazioni in corrispondenza dell'impalcato del viadotto Montechiupio nel territorio comunale di Manocalzati. Il ripristino della regolare circolazione è fissato per mercoledì 1 giugno. Per la rimozione dei New Jersey e del cantiere attualmente attivo tra le 22 di martedì 31 maggio e le 6 di mercoledì 1 giugno sarà attivata la chiusura al transito della Statale 7 Appia. L'intervento per un investimento complessivo di 1.300.000 euro è consistito principalmente nell'esecuzione di interventi corticali sulla struttura in calcestruzzo armato, nella sostituzione delle barriere di sicurezza, nel rifacimento dei cordoli della pavimentazione e della relativa segnaletica stradale, oltre che dei giunti di dilatazione. I lavori proseguiranno poi nella parte sottostante al viadotto senza però arricare disagio alla circolazione.